Condanna definitiva per il 42enne pregiudicato gelese, Francesco Girolamo Lacognata, residente a Niscemi, che nel settembre del 2006 partecipò ad una spedizione punitiva, picchiando e causando lesioni al convivente dell'ex moglie dell'altro aggressore. L'uomo tratto in arresto dai poliziotti del commissariato di Niscemi, in attuazione all'ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla procura della Repubblica del Tribunale di Gela, dovrà scontare, così come stabilito dalla condanna divenuta definitiva nel giugno del 2014, la pena residua di un anno al regime della detenzione domiciliare per i reati di violenza privata e lesioni aggravate in concorso.